Siamo i bambini molto diversi per età, doti e caratteristiche. Ma ci accomunano l'entusiasmo e la passione per la musica. Cantando ci alleniamo all'impegno e alla responsabilità, facciamo amicizia e condividiamo i valori e soprattutto iniziamo a capire che è bello lavorare insieme per realizzare progetti comuni. Vorremmo destinare la nostra eventuale vincita per l'acquisto di due o tre microfoni con un'asta per i cori della parrocchia. Il canto mette le aree alla fantasia, dunque... Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!